tanto le stesse oppa buon bucati siamo in bucati via sempre dritti il nostro corso è stato molto utile una volta in bucati in bucati in bucati Grazie a tutti. E qua c'è il dorso. E ma va? Gliel'ho detto di non andare avanti? Gliel'ho detto che lì c'era il coso. E non mi ascolta? Qua è dove è caduto l'ugo. Il video che c'è che è caduto è questo. E stanno crescendo anche i pini più alti. Il figaro. Pensate che dovete anche tornare di qua. E' quello che c'è. si chi ha perso i leoni lasciamo giù le tracce non si lasciano le tracce porca miseria non si lasciamo giù le tracce 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 No, 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 no. Non è vicido, è una roba, è un vetro, porca vacca. Buongiorno, cosa fai il trapone? No, no, no. No, 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 no. Oh, mi lasciano indietro che le tracce, figaro. Ah, non lo so. Cioè, ma porca vacca. Lascia in giù le tracce. Eh, buo. Ai, 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 ai. Hade a達la. Ah, i, ai, 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 ai. Grazie a tutti ehi 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 Grazie.